Sono 34 le opere incompiute realizzate da enti pubblici in Toscana, lo rivela l'ultimo aggiornamento dell'anagrafe del Ministero delle Infrastrutture. A questo però si aggiungono centinaia di interventi di interesse pubblico mai finiti di realizzare, come rivela un focus a cura del Movimento 5 Stelle in Regione. Mariadelle De Francisci. Non solo le più note, dall'autostrada tirrenica alla Due Mari, Fano Grosseto, anche infrastrutture più piccole come la circonvalazione di Regnano sull'Arno alle porte di Firenze, una delle 34 opere pubbliche mai finite in Toscana secondo l'ultimo aggiornamento dell'anagrafe Opere Incompiute del Ministero delle Infrastrutture, pubblicato oggi dal Sole 24 Ore. Per il Movimento 5 Stelle le opere mai finite sono molte di più, un centinaio, comprendendo anche interventi privati finanziati con soldi pubblici. Pensate all'hotel che trovate all'uscita del casello di Carrara, un hotel che si doveva fare con i soldi di taglia 90 e ad oggi abbiamo uno scheletro di ferro e cemento completamente abbandonato a se stesso. I 5 Stelle chiedono ora di investire risorse sullo sblocco di opere come il raddoppio della Siena Grosseto mettendo da parte grandi progetti come la TAV o l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze. Sono tutti grandi opere che impegnano grandi soldi pubblici, noi diciamo no a queste grandi opere e portiamo completamente le piccole opere utili e diffuse nel territorio.